Radio Sayuz è un network indipendente che tratta tematiche differenti, dall'attualità alla cultura, passando per la musica e l'intrattenimento, e nasce dall'idea di Sayuz, Rosario, con l'intento di informare e di risvegliare la coscienza delle persone. La passione di Sayuz per la radiocomunicazione prende vita nel lontano 1977, quando, appena 23enne, si avvicina al mondo dei CB, Citizen Band. L'evoluzione poi avviene negli anni Ottanta, con i BBS, le famose bacheche elettroniche, dove gli utenti potevano scambiarsi messaggi attraverso la linea telefonica. La connessione avveniva mediante modem analogici, molto prima dell'avvento di Internet. Sayuz fu inconsapevole protagonista del principio della telematica di base. Crea, quasi per gioco, Radio Sayuz, per un primo lungo periodo chiamata pure Sayuz Web Radio e poi ancora Sayuz Web Network, essendo anche una web tv, con l'intento di fornirgli una finestra sul mondo, dove poter comunicare il proprio pensiero e, dallo stesso modo, testare le proprie competenze web radiofoniche. E dopo mesi e mesi di test, di duro lavoro sul campo e di prove, ecco che avvengono le prime svolte nel 2010, grazie pure all'avvento di nuovi collaboratori che mettono a disposizione il loro prezioso tempo e soprattutto la loro passione per valorizzare tutti i contenuti presenti nel network, trattando quindi temi d'attualità, di intrattenimento, di inchiesta, di cultura e passando sempre, ovviamente, per la buona musica. Radio Sayuz non è quindi solo una semplice web radio, ma bensì è anche un network a tutti gli effetti in cui diamo la possibilità a chiunque di costruirne una tutta sua, fornendo gli strumenti necessari ed un'assistenza continua. Non possiamo farcela da soli, solamente con le nostre competenze e la nostra buona forza di volontà, quindi vogliamo costituire una società di capitali al fine di operare anche in chiave commerciale e generare quindi nuove risorse. Siamo nati in rete e quindi chiediamo alla rete di finanziare la metà delle spese complessive, esclusivamente per il primo anno. In seguito al capitale iniziale, Radio Sayuz sarà in grado poi di sostenersi ed autofinanziarsi mediante i proventi del network. Saremo grati a chiunque sosterrà il progetto e per questo motivo abbiamo deciso di ricompensare il vostro prezioso contributo. Un grazie da tutto lo staff di Radio Sayuz! Grazie a tutti!